Buonasera a tutti bentornati in questo ultimo video di giornata del Gobbo Toscano oggi è il terzo video e parliamo ancora una volta di calcio mercato ma questa diciamo è una cosa che se poi si verificasse sarebbe veramente clamorosa allora prima di cominciare vi invito come sempre chi ancora non l'ha fatto a iscriversi al canale condividete il video che è la cosa più importante lasciate un mi piace attivate le notifiche quindi la campanellina cliccate per attivare le notifiche se no non vi arrivano gli aggiornamenti sui nuovi video e le live che a breve faremo e in più commentate in maniera educata lo sapete ormai come funziona su questo canale allora per cominciare per cominciare ci ricolleghiamo a un discorso fatto stamattina nel primo video di un possibile di una voce che circola anche se arrivano tantissime smentite ma diciamo che noi non andiamo a cercare chi dà la notizia e come la dà noi facciamo comunque un ragionamento e secondo noi la fattibilità dell'operazione c'è e quest'operazione sarebbe il ritorno di Marotta alla Juventus anche visti i grandissimi problemi economici dell'Inter e la non consapevolezza di chi sarà per la prossima stagione il proprietario dell'Inter perché potrebbe essere Zhang che rifinanzia il prestito, il debito eccetera eccetera oppure si parla di Oak Tree a cui l'Inter deve tantissimi, cioè Zhang deve tantissimi soldi quindi vediamo un po' vediamo un po' se arriverà un compratore o un passaggio di testimone tra Zhang e qualsiasi altra persona però il futuro dell'Inter è ancora incerto no? quindi è incerto il futuro dell'Inter, è incerto il futuro dell'allenatore è incerto il futuro di alcuni giocatori perché se domani l'Inter fosse presa da Oak Tree e Oak Tree decidesse di non investire più sul calcio e quindi tenere la squadra con me e chi vuole andare via va via e si tira a fare cassa per risaldare il debito che l'Inter ha accumulato, quindi Zhang ha accumulato allora si potrebbero verificare tanti 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 scenari intanto pare sia cominciato il pignoramento di alcuni beni e servizi di Steven Zhang e quindi questo ci fa ben sperare a noi Juventini, a noi Gobbi allora chi potrebbe essere colui che viene insieme a Marotta? si è proprio lui, tanto l'avete visto in copertina, è inutile che la tiro per le lunghe è Lautaro Martinez, però il video lo dovete vedere per il perché può essere Lautaro Martinez Lautaro Martinez in questo momento sembra inarrivabile per qualunque club italiano ovviamente valutazione di transfer mark di 110 milioni di euro a 26 anni quindi nel pieno della carriera calcistica 110 milioni, 20 partite, 19 gol e 4 assist, una media pazzesca pazzesca però un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 quindi a giugno sarebbe a due anni dalla scadenza beh carità si sta già parlando di rinnovo si parla di rinnovo all'Inter ma bisogna vedere cosa succederà tra la squadra Inter e il loro proprietario il presidente, il proprietario quindi vediamo un po' come si evolve la situazione ma in questo momento è ben saldo all'Inter però è una curiosità che io vi porto qui in video e quindi vi invito anche a farci un ragionamento voi e ditemi anche nei commenti cosa ne pensate secondo me se, sempre se, tutti se, condizionale e d'obbligo se Marotta dovesse arrivare alla Juventus potrebbe puntare a portare Lautaro Martinez convincendolo del progetto anche perché se va via Marotta probabilmente perché l'Inter è in cattive acque a livello economico e quindi lo stesso Lautaro Martinez non avrebbe tanta indecisione ma poi parte tutto anche da dichiarazione di Brambati che dice di Marotta Lautaro Martinez che dopo la vittoria dell'Inter sulla Juventus è l'unico che non canta chi non salta bianco-nero è e dice chi non salta rosso-nero è lui vive più la rivalità col Milan quindi sono tanti indizi che non fanno sicuramente una prova ma danno spunti di ragionamento e quindi dobbiamo cercare un attimino di provare a pensare se l'operazione fosse fattibile ovviamente 110 milioni con una società stabile e integra a livello economico ti chiedono da 110 in su se è una società che dovesse passare un domani a OCTRI e decidono di rifare più soldi possibili per riparare al debito che aveva fatto Zhang di qualche centinaia di milioni di euro allora potrebbero anche dire vabbè ascolta 80 ce lo pigli vai piglia perché poi OCTRI se ne frega della rivalità tra Inter e Juventus loro vogliono recuperare i loro soldi quindi che lo vende alla Juve che lo venda in Manchester non gli interessa nulla ovviamente ci saranno tanti club europei sulla Taro Martinez ma si può spingere sulla volontà di Marotta in caso dovesse passare anche proprio Beppe Marotta alla Juventus ecco diciamo che sì oggi è un po' giornata fantasiosa ci sono tutte queste teorie che però io dico che meritano almeno un piccolo ragionamento mettiamo insieme tutti i pezzettini del puzzle e giustamente ci viene un ragionamento spontaneo non è un ragionamento troppo forzato come non lo è Marotta alla Juve e di conseguenza se Marotta è alla Juve non lo è un Lautaro Martírez e un Antonio Conte cioè riformare quel gruppo di lavoro che ha fatto bene dovunque è andato Marotta più Conte ha fatto bene alla Juve Marotta più Conte ha fatto bene all'Inter quindi se poi ci mettiamo noi che abbiamo Giuntoli e rispondo a tanti che mi hanno chiesto ma Giuntoli non è possibile che fine fa Giuntoli rimarrebbe a fare il DS cioè il suo compito il suo lavoro Marotta andrebbe a fare l'amministratore delegato sono due cose differenti però se non guardate il video è difficile che poi riusciate a capire non posso rispondere a tutti i messaggi perché tante volte siete in 100 messaggi e a rispondere a tutti in tempo di dover rifare un altro video caricarlo, editarlo e tutto quanto e cercare le informazioni diventa un po' complicato quindi guardatevi i video e poi almeno vi do tutte le risposte che cercate quindi è una suggestione per carità non c'è nulla dietro? assolutamente no almeno che io sappia però se c'è qualcosa dietro tra Marotta e la Juventus allora non metto non escludo ecco scusatemi non escludo Lautaro Martinez che abbia qualche contatto ovviamente con Marotta per parlare del futuro lui come qualsiasi altro giocatore dell'Inter perché bene ci sono giocatori tipo Barella che dichiara odio no alla Juventus sì alla Juventus tipo i vari Nainggolan no quei giocatori che rappresentano un po' l'interismo no parliamoci chiaro perché ah no la Juventus è un po' come tanti tifosi della Fiorentina e dicono se quel giocatore la Fiorentina prende quel giocatore dalla Juve io smetto di si fa a Fiorentina cioè roba dell'altro mondo però siccome abbiamo visto che tra l'Inter e la Juve tra la Fiorentina e la Juve tra l'Inter e il Milan ci possono essere scenari anche di calcio mercato perché fondamentalmente la rivalità è sul campo ma poi io credo che i dirigenti si parlino tranquillamente al di fuori delle manifestazioni sportive come è giusto che sia è normale perché comunque quando si tratta di affari è tutto un altro discorso poi possa piacere o no io vi dico per me Lautaro Martinez in questo momento messo accanto a un Vlaovic secondo me sarebbe una roba perfetta oppure oppure vendi chiesa vendi anche Vlaovic e ti fai Lautaro Martinez Ildiz Lautaro Ildiz non hai proprio una punta o scusate Ildiz Lautaro su Le ne puoi fare tante ovviamente devi far cassa perché non puoi comprare a così tanto però però c'è sempre un però c'è un però bisogna vedere come finirà la stagione anche su Le su Le se poi verrà si prenderà la decisione di cederlo probabilmente bisognerà andare a vedere come finirà l'anno e quindi probabilmente invece dei 25-30 milioni che si pronostiava qualche mese fa qualche settimana fa si potrebbe anche andare a trovare una cifra un pochino più alta da parte di qualche club che non ha problemi di spese tipo 45 e Liverpool per chiesa come si vocifera arriva qualcuno Vlaovic fa una stagione della Madonna la Juventus però per via del contratto non lo ritiene fondamentale 70 milioni da Vlaovic per dire 70 e 45 sono 115 già Lautaro te lo sei preso è ovvio bisogna parlare poi di contratto ma ma non è non è tutto oro quello che luccica ma non è neanche da scartare a priori fatevi un po' di ragionamenti fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate mi raccomando continuate a iscrivervi al canale perché siete sempre di più siete in tantissime vi ringrazio lasciate un like condividete il video e mi raccomando attivate la campanella se no le notifiche non vi arrivano ciao dal Gobo Toscano fino alla fine ci vediamo domani grazie a tutti